benvenuti ben ritrovati e una buona serata a tutti grazie per essere qui in mia compagnia ad angoli come sempre prima di iniziare la nostra serata insieme vi ricordo che potete restare in contatto con la nostra redazione molto semplicemente inviando una mail al nostro indirizzo di posta che sempre lo stesso ma ve lo ricordo angoli chiocciola espansione tv punto it quindi scrivete poi io insomma leggo tutte le mail e piano piano poi rispondo a tutti quanti detto questo allora andiamo a conoscere gli ospiti che intanto sono arrivati qui sono venuti qui questa sera io ringrazio e saluto raffaele cantacesso ciao raffaele grazie per essere qui con noi tu sei presidente dell'alveare onlus non sei solo quindi saluto e ringrazio anche denis pesenti che invece è vicepresidente dell'alveare onlus quindi grazie per essere qui questa sera so che dobbiamo lanciare un evento un evento che sarà tra l'altro tra pochi giorni quindi io direi lanciamo subito vediamo la locandina e raffaele do a te la parola di cosa si tratta si tratta di un concerto di violino e orchestra diretto dal maestro matteo fedeli che tra l'altro è un importantissimo maestro che gira tutto il mondo con un violino del 1700 che è un guarneri e lui fa conoscere le note di questo violino a tutto il mondo quindi sarà davvero un momento anche di grande emozione assolutamente sì e diciamo che è importantissimo per noi perché matteo fedeli è proprio un amico dell'alveare perché è molti anni che ci conosce ed è molti anni che segue la nostra associazione quindi lo scopo di questo bellissimo e straordinario concerto come abbiamo detto sabato 9 giugno alle ore 21 presso il teatro moderno di binago un concerto per un sogno ovviamente quello di sostenere l'alveare allora a questo punto vengo vengo da te denis già qualche tempo fa eravate stati qui per parlare di un progetto però iniziamo proprio da dall'alveare di cosa si occupa l'alveare è un'associazione che da 37 anni a sede olgiate comasco si occupa di organizzare il tempo libero delle persone diversamente abili con disabilità e noi ci ritroviamo tutte le domeniche dell'anno troviamo giorni di festa organizziamo varie manifestazioni eccetera e poi in estate andiamo al mare in vacanza con tutti insieme e ci occupiamo praticamente del tempo libero quindi insomma un bel modo per stare vicino alle persone per fare insomma delle cose insieme e soprattutto immagino anche per comunicare che tante cose davvero possono essere per tutti e vanno condivise questa è la cosa importante raffaele torniamo appunto alla memoria di quando se non sbaglio tre anni fa voi siete già venuti qui per raccontare insomma per lanciare una bella iniziativa un progetto che poi ha preso forma in realtà di cosa si trattava certo noi tre anni fa siamo venuti qui da voi vi ringrazio perché siete stati veramente come dire utili perché è partito un progetto che abbiamo chiamato costruiamo un sogno felice sogno felice in memoria del nostro fondazione fondatore felice albonico noi eravamo in una sede piccolissima che il comune ci ci dava incomodato d'uso e abbiamo pensato che non era più sufficiente anche perché avevamo molte richieste di ragazzi da inserire e siamo partiti con questo progetto grazie anche ancora al comune di olgiate comasco che ci ha anche qui dato uno stabile e abbiamo abbiamo ristrutturato abbiamo ristrutturato ed è nata questa nuova sede dove noi tuttora ci lavoriamo operate insomma è uno spazio indispensabile a questo punto perché senza questo questo luogo sarebbe difficile offrire i servizi che voi offrite quindi è importantissimo insomma che questa realtà si sia consolidata e soprattutto che che possa continuare nel tempo ma altro aspetto molto importante del vostro lavoro sia anche oltre il luogo dove voi vi incontrate anche le persone che collaborano che sono presenti e che vi aiutano è così sì sì noi siamo più di 40 volontari effettivi e ci troviamo appunto in vari gruppi le varie domeniche dell'anno e portiamo avanti tutte le attività dell'associazione e appunto ritrovandoci nella nostra nuova sede che ormai è operativa al cento per cento e diventa molto importante insomma anche questa collaborazione allora anche per come dire accendere un focus sulla figura del volontario ci sono dei prerequisiti che bisogna avere per far parte di questo corpo chiamiamolo così di volontari? Premettiamo che noi siamo innanzitutto un gruppo di amici quindi penso che sia molto semplice tra virgolette inserirsi basta avere voglia di fare tempo da dedicare soprattutto basta poco direi quindi la caratteristica è avere insomma il cuore aperto alla fine salve a tutti siamo Telepedolo ci troviamo i Caraibi guardate che meraviglia va che spiaggia quella mia è una spiaggia è un bosque guarda là mi senti un po' da frecci insieme e così non andiamo bene non andiamo per niente vedi ecco io di questa cosa sono anche stanca ormai sono giorni che mi giustifico che riceviamo queste incursioni davvero spiacevoli come dico ogni volta si tratta probabilmente di un emittente pirata che in qualche modo si inserisce io spero invito i nostri tecnici a risolvere quanto prima questa situazione spiacevole anche e soprattutto quando si parla di cose serie quindi insomma speriamo davvero che questa cosa possa terminare presto mi scuso anche con voi purtroppo sta accadendo spesso strana sta cosa infatti non riusciamo a capire purtroppo ci sono queste incursioni continue e mi scuso soprattutto davanti agli ospiti agli argomenti importanti che stiamo trattando quindi torniamo a noi stavamo parlando di volontari e credo che come ci ha appunto evidenziato Dennis la voglia di fare la voglia di aiutare sia l'elemento fondamentale ma c'è sempre bisogno di volontari quindi come si fa a diventare volontari e a lavorare con voi? ma sicuramente come diceva Dennis la voglia di stare in compagnia con le persone prima di tutto abili e non abili quindi chi vuole venire può benissimo venire da noi noi ci troviamo anche tutti i mercoledì sera per decidere cosa fare la domenica ed è io la chiamo anche una bella famiglia perché siamo veramente tutti amici e di conseguenza facciamo tutto quello che fa un gruppo di amici quando si trova quindi si va al bar si va a bere la cioccolata si fanno le passeggiate quindi è semplicissimo venire da noi quindi una quotidianità condivisa laddove c'è del tempo libero e da amici lo si vuole trascorrere insieme e a proposito di tempo libero visto che appunto siamo ormai a giugno quindi vicino anche all'estate e alle vacanze avete sottolineato che anche attività estive vengono organizzate quindi ne vogliamo parlare quali sono i programmi che appunto il mercoledì sera mettete insieme per poi proporli? niente noi da quando abbiamo cominciato il periodo di raccolta fondi per la nuova sede abbiamo organizzato molti eventi e quindi ci sarà il mese di giugno che comincia con molti eventi quindi abbiamo bisogno di tanta mano d'opera chiamiamola così brutalmente però l'evento più importante penso che Denis sia d'accordo con me è annunciare magari le vacanze estive perché noi con i ragazzi facciamo anche le vacanze estive dando anche un sollievo alle famiglie quando i ragazzi vengono con noi a fare le vacanze quindi è un'occasione importante anche per le famiglie per sentirsi sicuri, sereni sicuri innanzitutto e poi approfittano anche le famiglie per staccare un attimino perché molte situazioni sono veramente diciamo importanti ecco complicate da gestire quindi avere un supporto di questo genere quindi Denis lo chiedo anche a te immagino che ci sia una risposta da parte delle famiglie appunto che trovano aiuto e sostegno da parte appunto vostra una risposta importante che cosa pensano dell'associazione sono tutti contenti dell'associazione si fidano ciecamente di noi e di noi volontari della nostra associazione anche perché i ragazzi sono molto contenti di trascorrere le domeniche e il tempo con noi quindi è davvero un'occasione importante come tu hai ben sottolineato dare anche sollievo alle famiglie che continuamente ovviamente hanno un carico di responsabilità di pensiero, di pressione e possono a loro volta ogni tanto come dire prendere un attimo fiato nella certezza e nella consapevolezza che voi sapete benissimo come occuparvi insomma dei loro ragazzi quindi un bellissimo scambio detto questo ricordiamo quindi subito questo evento che ci sarà come abbiamo detto sabato 9 giugno alle ore 21 al Teatro Moderno di Binago questo concerto sottolineiamo di nuovo l'importanza della presenza di questo maestro con questo violino così particolare sì è un violino del 1700 è un Guarneri che è stato un liutaio importantissimo dell'epoca e vorrei anche sottolineare la presenza quella sera lì di un famoso pittore che si chiama Fabrizio Vendramin che è stato anzi è stato ha vinto una serie di Italian Got Talent e sarà presente anche lui a titolo proprio di volontariato quindi abbiamo trasmesso anche a lui la 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 siete riusciti a coinvolgerlo insomma in questa bella iniziativa che non dovrebbe essere l'unica però perché so che state organizzando anche un altro evento che dovrebbe poi perfezionarsi ma comunque iniziamo ad annunciarlo un evento che c'è già stato l'anno scorso ad Olgiate e stiamo cercando di riproporre anche quest'anno che si chiama Metti in moto l'alveare sarà una giornata di festa che coinvolgerà tutta la città di Olgiate i nostri ragazzi sarà a clou della giornata un evento di freestyle motocross con questi ragazzi che noi seguiamo tutto l'anno e che organizzano un sacco di giornate fantastiche per i nostri ragazzi che non vediamo l'ora è una di queste e vediamo anche le immagini in questo momento quindi della serie si fa sempre festa e quindi questa cosa ci piace moltissimo bene allora io ringrazio Raffaele Cantacesso e Denis Pesenti per essere stati qui vi ringrazio soprattutto per il loro cuore e la loro voglia insomma di essere vicini agli altri e a questo punto visto che vi abbiamo portato bene come avete detto tre anni fa insomma tornate e continuate a raccontarci le belle cose che state facendo assolutamente sì grazie davvero grazie di buone bene grazie anche a voi rimanete lì perché tra pochissimo cambiamo argomento ma torniamo sempre ad angoli grazie a tutti grazie a tutti